probabilmente io voglio dirlo noi non celebreremo questa ricorrenza tutti con le stesse visioni politiche culturali con le stesse pulsioni sentimentali questo dipende anche dal fatto che non siamo stati tutti comunisti nello stesso modo a parte naturalmente alcune convinzioni fondamentali più volte mi è stato chiesto di definire in poche parole che cosa all'epoca è stato per noi comunismo io credo che comunismo non può essere definito con solo concetto in campo internazionale c'erano comunisti libertari e progressisti e comunisti che usavano metodi liberticidi c'erano intellettuali comunisti aperti alla modernità e dogmatici fustigatori di ogni coscienza critica sicuramente gramsci e mi vengono soltanto i brividi a fare questo accostamento gramci era comunista in modo diverso da stalin e berlinguer da brevi la cosa più inquietante come tutte queste esperienze per molto tempo siano riuscite a convivere annebbiando e deformando la percezione della parola stessa si arrivava per vie diverse al comunismo attraverso anche contaminazioni diverse e la mia esperienza personale è un'esperienza della diversità delle contaminazioni a casa mia durante la resistenza c'era la sede clandestina della sinistra cristiana perché mio padre laico non particolarmente credente aveva incontrato la resistenza allora veniva attraverso i tipi di contatti con questo movimento di comunisti eh cattolici in questa sede io vedevo entrare comunisti eh i comunisti socialisti cattolici questi che mi sembravano allora a me bambino gli apostoli come gli apostoli eh del risorgimento che scriveva la mano a macchina eh comunicati eh di battaglia dentro la città con grande eh con grande pericolo per una casa dove c'erano sei bambini tre della mia famiglia e tre eh cugini e da quella casa io mi affacciai il 25 aprile avevo nove anni alla finestra e vidi svettare i cararmati che gli operai della Fiat avevano finito di costruire durante la notte quando viene data l'insurrezione escono e c'erano le bandiere su quei carammati che erano il tricolore le bandiere rosse e io devo dire che è da quel momento che io sono diventato uomo di sinistra e sarò per tutta eh la vita uomo di sinistra per me la resistenza è il punto di partenza per altri il punto di partenza è un altro per le generazioni future l'essere di sinistra come dimostrano movimenti di giovani e giovanissimi sarà una strada nuova diversa originale è una cosa che bisogna incominciare a capire